Musica Amici di TV6, ben ritrovati con una nuova edizione della TG L'Aquila. In apertura oggi a Roma si pronuncia la Cassazione in merito al processo a carico dei sette esperti della Commissione Grandi Rischi accusati di omicidio colposo e lesioni per aver dato rassicurazioni alla popolazione aquilana pochi giorni dal sisma del 2009. Tutti i dettagli nella servizio. Confermare la pena a due anni di reclusione inflitta in appello all'ex vice capo del Dipartimento della Protezione Civile Bernardo De Bernardinis, l'unico componente della Commissione Grandi Rischi, che in secondo grado è stato condannato per omicidio colposo e lesioni in relazione alle rassicurazioni ritenute infondate date alla popolazione dell'Aquila alla vigilia del terremoto del 2009. Lo ha sollecitato il sostituto procuratore generale di Cassazione Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto alla quarta sezione penale della Suprema Corte di rigettare il ricorso dell'imputato per il quale i giudici d'appello avevano disposto la sospensione della pena e la non menzione. Secondo il procuratore generale, soli effetti civili vanno accolti alcuni ricorsi di parte civile relativi al crollo della casa dello studente presentati nei confronti dell'ex vice capo della protezione civile. Per questo Fodaroni ha chiesto che venga celebrato un nuovo processo civile sulle richieste di risarcimento. Sempre il sostituto procuratore generale di Cassazione Maria Giuseppina Fodaroni ha chiesto la conferma delle assoluzioni pronunciate in appello per sei dei sette componenti della Commissione Grandi Rischi imputati per omicidio colposo e lesioni. Un flash mob per chiedere giustizia per le vittime del terremoto dell'Aquila è stato organizzato questa mattina proprio da alcuni familiari delle vittime del sisma che il 6 aprile 2009 provocò 309 morti. Un lungo stricione è stato esposto questa mattina nei giardini di Piazza Cavour proprio davanti all'entrata della Corte con suscritto contro chi ha rassicurato invece di allarmare contro un sistema malato che protegge se stesso. Chiediamo giustizia. Al flash mob ha partecipato anche un gruppo di persone che indossano magliette bianche con la scritta rassicurato. Andiamo adesso in Regione. Sono stati approvati gli emendamenti in Senato alla legge di stabilità che consentono la proroga dei contratti dei lavoratori precari del Comune dell'Aquila. I lavoratori però continuano la protesta perché temono che i contratti non saranno comunque prorogati. Tutti particolari nel servizio di Daniela Braccani. I precari del Comune dell'Aquila scendono di nuovo in piazza all'indomani l'approvazione del Senato degli emendamenti alla legge di stabilità presentati dalla senatrice Stefania Pezzopane. Uno degli emendamenti consente ai Comuni del Cratere e quindi anche al Comune dell'Aquila di prorogare o rinnovare per il bienio 2016-2017 i contratti a tempo determinato in corso con i lavoratori impegnati negli uffici dei Comuni per la ricostruzione così come era già stato previsto nel decreto enti locali per il solo Comune dell'Aquila. Alla luce degli emendamenti approvati non accettiamo più a questo punto atteggiamenti ostativi come quelli che in passato hanno impedito di ottenere un risultato spiegano lavoratori e sindacati. Ora non ci sono più scuse tra dirigenti e amministratori pubblici che la vedono in maniera diversa. La proroga si può e si deve firmare come stabilito nella legge di stabilità. Noi l'amministrazione comunale chiediamo i rinnovi e l'amministrazione comunale a questo punto deve quantomeno dar seguito alle nostre stanze perché gli emendamenti fatti fare dalla senatrice Stefania Pezzopane non fanno altro che corroborare le nostre ipotesi in merito alla fattibilità appunto dei rinnovi. Un'amministrazione che ha tagliato i servizi ai cittadini e che ha fatto perdere tre mesi di stipendio ai dipendenti adesso non può fare altro che procedere al rinnovo fino al 2017. Passiamo adesso al Comune dell'Aquila. È stato pubblicato sul sito del Comune il bando di gara per il recupero crediti degli assegnatari morosi per il progetto case e per i MAP. Tutti i particolari e le dichiarazioni anche della Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente le ascoltiamo nel servizio di Daniela Rosone. Pugno duro del Sindaco Massimo Cialente con i morosi del progetto case e dei MAP è stato pubblicato infatti il bando per il recupero crediti degli assegnatari morosi. Sul sito del Comune è possibile consultare e scaricare il bando di gara. Ci troviamo costretti, ha dichiarato il primo cittadino Massimo Cialente a procedere al recupero forzato delle somme per le quali andremo fino in fondo. La città non può essere infatti ostaggio di 3.300 nuclei familiari normo benestanti, ha detto. Andremo pertanto fino alle estreme conseguenze poiché si tratta di una questione di equità e di civiltà democratica. Ribadisco inoltre le gravi irresponsabilità politiche dice ancora Cialente e Morali di coloro che meramente affini politici come il caso del centrodestra hanno strumentalizzato i cittadini facendo trascinare loro un debito crescente da oltre tre anni. L'amministrazione offrirà presto l'ultima possibilità di rateizzazione commisurata all'ISEE dei nuclei familiari ma solo per coloro che siano in regola con i pagamenti 2015. I redditi superiori invece a 10.000 euro dovranno pagare tutto entro il mese di febbraio mentre i redditi ricompresi fra i 7 e gli 8.000 euro avranno otto rate a disposizione per eliminare tutti i pagamenti. Ricordo infine, ha concluso il sindaco che dal primo aprile i conteggi dei consumi sia per l'acqua calda che per il riscaldamento torneranno ad essere individuali con la sostituzione di tutti i contatori e la telelettura. Ancora l'Aquila, al distretto Ex-Ompi ci sono delle barriere architettoniche all'ufficio per disabili. Pensate, l'ascensore del distretto sanitario Ex-Ompi è troppo stretto per consentire l'ingresso delle carrozzelle. Le impiegate scendono al piano terra per venire incontro all'esigenza dell'utenza. L'ufficio disabile è infatti posto al terzo piano. Antonella Calcagni. Ascensore strettissimo e ufficio irraggiungibile al terzo piano sembra un paradosso ma lo sportello che fa capo al distretto sanitario di base che si occupa dei disabili si trova al terzo piano dell'edificio Ex-Ompi nei cui locali è stato trasferito il distretto precedentemente ospitato nei container ubicati nell'ex presidio di Colle Maggio. Al pian terreno è stato affisso un cartello per informare l'utenza che ha problemi di diambulazione di contattare il personale che mostrerà un percorso alternativo. Purtroppo però non è dato sapere il numero telefonico. A venire incontro ai bisogni dei diversamente abili sono così le impiegate che puntualmente scendono al pian terreno per ricevere l'utenza speciale. Regione Abruzzo adesso i cittadini potranno partecipare alle attività. Con la nuova bozza di legge presentata dal direttore generale della Regione Abruzzo Cristina Gerardis i cittadini attraverso anche una piattaforma online saranno parte attiva delle scelte regionali. Daniela Braccani. Anche in Abruzzo i cittadini potranno partecipare alle attività della Regione con la nuova bozza di legge dal titolo Disposizioni la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali che ha l'obiettivo di coinvolgere i soggetti sociali organizzati in forme democratiche nell'elaborazione e nella formazione delle politiche regionali. In sostanza i cittadini potranno anche attraverso una piattaforma online esprimere la loro partecipazione nelle decisioni importanti come l'istituzione di una legge. Possono partecipare attraverso una piattaforma informatica che verrà gestita dalla Direzione Generale mediante il proprio ufficio relazioni con il pubblico alla formazione delle leggi e di altri atti di carattere provvedimentale dell'Aggiunta regionale. Cambiamo adesso decisamente argomento perché i Coffee Shower hanno presentato il loro ultimo disco uscito qualche giorno fa. vediamo il servizio con Daniela Rosone. Ausis è il nuovo disco dei Coffee Shower uscito il 13 novembre e anticipato dal ciclo Broken Pieces un singolo accompagnato da un video firmato dalla regia di Stefano Poletti oltre 5.000 visualizzazioni per il video e il brano suonato in varie radio italiane Radio Rocca Roma Radio Popolare Lombardia Sì siamo molto soddisfatti Ausis il disco il nuovo disco di Coffee Shower è uscito la settimana scorsa venerdì 13 novembre su Ammonia Records che è una storica etichetta del panorama indipendente nazionale e insomma il video che ha anticipato il disco il singolo Broken Pieces appunto abbiamo girato questo video con un grande regista che è Stefano Poletti che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e ha lavorato con grandi artisti come Baustelle Neck Appino Sictamburo abbiamo girato la maggior parte delle scene all'interno del complesso dell'ex ospedale psichiarico di Colle Maggio e poi anche in altri luoghi della città tra cui diciamo il nostro playback quello dove noi appunto suoniamo è stato girato all'esterno di un club che si chiama il Pinacoteca e approfitto per ringraziare e salutare Stefano Cattivera che è il proprietario che ci supporta e ci dà sempre una grossa mano il personaggio principale che affronta una sorta di crisi esistenziale con se stesso si rapporta con quelli che sono i suoi mostri interiori e piano piano trova la via dell'equilibrio all'interno di questo percorso i Coffee Shower sono insieme da 15 anni e hanno calcato i palcoscenici italiani e non solo sono Fausto Chiarizzi a voce e chitarra Fabio Cortelli chitarra e voce Michele De Carlo al basso per Luigi Chiarizzi alla batteria tanto live e a breve un concerto per il pubblico per presentare alla città il singolo e l'album stanno concretizzando un po' di live per quanto riguarda sia l'Abruzzo che fuori in Italia tra cui quello del 21 novembre a Piazza d'Arti al Muspac dove presenteremo il nuovo disco dove sarà una grande festa un grande concerto e tanto altro insomma quindi invitiamo tutti a venire ad ascoltare Coffee Shower assolutamente sì vi aspettiamo Passiamo adesso allo sport e in particolare all'Aquila Calcio che si prepara alla trasferta di Macerata per provare a dare seguito al successo ottenuto la scorsa settimana nella derby contro il Teramo tutte le ultime sentite per l'Aquila marcia di avvicinamento alla trasferta di sabato a Macerata i Rosso Blu proveranno a dare seguito al successo nel derby con il Teramo al cospetto però della maceratese vice capolista del campionato il tecnico aquilano Carlo Perrone ha provato i suoi uomini nell'amichevole vinta ieri pomeriggio a Villa Sant'Angelo contro il new team Pizzoli 6 a 1 il risultato finale a segno De Francesco con una doppietta De Sousa Stivaletta Anderson e Ceccarelli per il Pizzoli marcatura di Fabrizio Rossi il presidente del settore giovanile ha giocato occasionalmente con il Pizzoli per una sgambata ad altri tempi sul fronte formazione in vista di macerata Perrone potrebbe confermare il 3-5-2 vincente contro il Teramo in difesa scontato il rientro di Maccarrone mentre in attacco probabile la conferma del duo Perna Ceccarelli con De Sousa pronto a subentrare in mediana possibile una nuova maglia da titolare per il giovane croato Milicevic Parliamo adesso della presentazione di un libro Libia 1911-2015 domani sera all'Aquila a partire dalle ore 18 sarà presentato a Palazzo Fibioni il volume appunto Libia 1911-2015 assieme a Salvatore Sant'Angelo giornalista professionista e coautore del volume interverranno il sindaco Massimo Cialente Gianfranco Giuliante Stefano De Angelis Mimmo Sour e Arturo Diaconale la pubblicazione intitolata Libia è il frutto del lavoro di un gruppo di studiosi coordinati dal professor Folco Biagini dell'Università Sapienza di Roma che hanno provato a dare una lettura degli eventi che comprendesse sia la dimensione storica che quella geopolitica la presentazione di domani sarà anche l'occasione per parlare di geopolitica del terrore che assedia il nostro paese alla luce soprattutto dei recenti eventi e degli attentati terroristici di Parigi e ancora nell'ambito degli appuntamenti promossi dal Circolo Giovani Amici della Musica per la settantesima stagione della Società Aquilana dei Concerti Baratelli all'auditorium del Parco ci sarà dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il recital pianistico di Tiziana Columbro vincitrice dell'ottava edizione del concorso musicale Marco dell'Aquila la ventenne pianista si è formata al Conservatorio Luisa d'Annunzio di Pescara specializzandosi presso l'Accademia Musicale Pescarese sin da giovanissima si è distinta in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali risultando vincitrice di primi premi assoluti borse di studio e concerti premio dalla 2010 svolge regolare attività concertistica bene era la nostra ultima notizia io mi fermo qui vi ringrazio per averci seguito anche oggi appuntamento alla prossima edizione della TG6 sempre dalla redazione dell'Aquila buon proseguimento a tutti voi grazie a tutti